Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. È il video del weekend ed è un po' più semplice, un po' più rilassante di quelli che facciamo durante la settimana. Questa settimana abbiamo fatto tanti video perché c'erano grandi notizie, però oggi volevo lasciarvi al weekend, sotto il sole e al mare per chi di voi va, con un video di opinione per quello che riguarda l'introduzione, almeno da un punto di vista in questo momento concettuale, nel mondo di Libra, sempre della CryptoCoin di Facebook, ragazzi. Allora, oggi parliamo di che cosa succederà, secondo la mia idea, o potrebbe succedere al mercato delle altcoin grazie all'introduzione di Libra o a causa dell'introduzione di Libra e come la vedo io da alcuni punti di vista sulle altcoin e anche del motivo del perché molte di queste altcoin in questo momento sono in una fase di apatia, ragazzi. Probabilmente faremo anche un video al riguardo indirizzato esclusivamente alle altcoin nelle prossime settimane, ma oggi parliamo di Libra, Facebook, come reagiscono le altcoin o meglio, come potrebbero reagire in futuro. Ma prima di andare avanti con questo video, iscrivetevi al canale perché ho in serbo per la prossima settimana, prima della pausa estiva, sì perché andrò in pausa, ragazzi, anche io, e quando vado in pausa iniziate a vedermi in auto, che faccio i video se vi ricordate e inizieranno anche a ridursi il numero dei video perché sarò in pausa estiva. Ma prima di questo vorrei lasciarvi con una serie di video estremamente interessanti e molto ghiotti che faremo probabilmente nella prossima settimana forse uno e nell'altra ancora un altro. Vi assicuro che saranno video fantastici. Iscrivetevi al canale quindi, ragazzi, per non perderli. Intanto proprio in questo momento, mentre sto registrando, Bitcoin ha rotto i massimi, ragazzi, e continua la fase assolutamente corretta del trend ciclico che stiamo tradando benissimo. Guarderemo poi nei grafici di lunedì la solita analisi ciclica e tante altre informazioni. Vi faccio vedere anche il famoso grafico dove indicavo tutte le posizioni di ingresso che dovevano essere prese su Bitcoin, come sta andando. Sta andato tutto, diciamo, a confie belle, ragazzi, ma poi lo vedremo nei video la prossima settimana. Torniamo all'argomento di oggi. Facebook introduce Libra, che è essenzialmente un sistema di scambio, ragazzi, per scambiarsi cosa? Valore tra una persona o un'altra persona, o un insieme a una massa di persone, in maniera estremamente veloce, in maniera diretta e bypassando completamente tutto il meccanismo di natura bancaria. Intanto, non so se avete idea cosa significa questo da un punto di vista anche di logica per le banche, relativamente, per esempio, alla funzione del bonifico bancario, ragazzi, ok? La funzione del bonifico bancario resterà sicuramente, ma il suo utilizzo si riduce, si riduce, ragazzi, in maniera estremamente importante. Come, se vi ricordate, quando nasce un prodotto, lo si utilizza per anni, poi a un certo punto sembra che è impossibile, diciamo, che vada via, a un certo punto questa tipologia di prodotto se ne va, perché, ragazzi, il ciclo di vita dei prodotti prevede anche la fase di maturità e declino. Probabilmente il bonifico bancario sarà una di queste fasi di declino. Tra le altre cose, ancora alcune banche non so come fanno, ragazzi, ma riescono a farsi pagare la commissione sul bonifico bancario. Vabbè, poi si lamentano che i trend sono disastrosi. Vabbè, scherzi a parte, comunque Libra inciderà immediatamente sui sistemi di scambio veloci, inciderà in maniera pesantissima sulle carte di credito. In maniera pesantissima sulle carte di credito, perché, tranne quelle che ovviamente sono dentro il progetto Libra, ragazzi, come Visa, per esempio, perché avranno un enorme impatto le transazioni scambiate attraverso lo smartphone, utilizzando probabilmente WhatsApp o Messenger di Facebook, e avranno un grande impatto quel tipo di transazioni che aumenteranno in maniera esponenziale e, da un punto di vista di logica di numero, le transazioni con le carte di credito, quelle così, vlande, andranno a ridursi. Quindi, da una parte, il mercato si sposterà verso l'utilizzo della cripto. Questo sempre se l'adozione sarà fatta in maniera corretta, se, diciamo, gli utenti apprezzeranno il servizio decentralizzato, per finta, di Libra, e vorranno utilizzare la cripto. Costi ridotti, più velocità di scambio, aumento degli scambi, perché ci sarà più facilità nello scambiarsi denaro, minore scambio di contanti. Anche questo è importante per chi magari ancora utilizza questo sistema, minore scambio di contanti sarà sempre meno utilizzato. Tutto questo, ragazzi, incide sul mercato delle altcoin e non incide, invece, su Bitcoin. Abbiamo fatto il video su Bitcoin martedì, è andato benissimo, intanto vi ringrazio. È stato un video, diciamo, apprezzatissimo, con grande view. Ha riscosso un grande successo, quindi sono molto contento, anche perché l'avevo fatto così, nell'impeto del momento. Abbiamo parlato di come, secondo me, Bitcoin non ha nulla a che vedere con Libra e non sarà minimamente toccato, anche perché ha una base di una struttura tecnologica che verrà anche utilizzata per la struttura delle cripto. Ma le altcoin, ragazzi, non hanno lo stesso tipo di utilizzo. Perché? Perché bisogna differenziarle le altcoin. Le altcoin bisogna differenziarle in base a quelle che sono effettivamente le altcoin con l'uso che se ne fa. Libra dove va a incidere, e secondo me un po' bisognerebbe ragionarci su questa cosa, va a incidere su tutte quelle altcoin che fungevano da sistema di scambio e che andavano a sopperire, in sostanza, il problema che Bitcoin fosse pesante nello scambiarlo nella blockchain. E a quel punto l'idea generale di quelle criptovalute che avevano la funzione di scambiare valore in maniera istantanea e veloce vengono un po' meno, ragazzi. Perché? Perché che senso ha se io posso utilizzare la cripto di Facebook Libra che ha un bacino di utenza enorme, ampissimo, se io posso utilizzare quella criptovaluta perché devo andare a utilizzare, faccio per esempio un Bitcoin Cash, ragazzi, perché devo andare a utilizzare un Ripple? Perché? Magari Ripple se la scambiano le banche, ma, ragazzi, cioè, voglio dire, il sistema deve poi confluire sull'utilizzo di una cripto che sarà quella degli scambi, quella veloce, per scambiare valore. Tutte le cripto altcoin che sono state create per prendere il famoso posto del denaro contante e scambiare valore con velocità hanno un concorrente gigantesco. Questo è il problema. Già sono microcoin, già hanno difficoltà di loro a prendere piede e quant'altro. Insomma, non dico che il cash, magari il Bitcoin Cash potrebbe perdurare perché comunque è sostenuto dalla stessa blockchain di Bitcoin, però, ragazzi, i scambi con Libra saranno più veloci, probabilmente anche di Bitcoin Cash, saranno più veloci anche di Navcoin, per esempio, probabilmente, non lo sappiamo, ma sicuramente la struttura della criptovaluta altcoin che è stata creata solo per rendere il flusso di scambio di denaro come moneta, ragazzi, valore, chiamiamolo così, veloce, non ha più significato perché se interviene Libra e c'ho due miliardi di utenti che la utilizzano, a quel punto perché devo utilizzare una coin piccolina? A meno che, ragazzi, poi non ci sia il problema che la Cina e la Russia decidano di fare la loro cripto perché è impossibile vedere i cinesi utilizzare Libra, ragazzi, non lo so, neanche se li vedo in questo istante con il discorso che c'è stato su Huawei e la chiusura degli americani neanche se li vedo che Facebook gli propina questa cripto non lo utilizzeranno mai quindi sicuramente avranno anche loro dei sistemi quindi da una parte abbiamo Bitcoin che non viene toccato anzi, probabilmente viene incentivato da questa innovazione perché Bitcoin è una conserva di valore, una riserva di valore, un sistema di scambio di valore e basta si può scambiare ma per lo più funge da oro, oro virtuale ragazzi è una riserva di valore guardate le fee di questi ultimi mesi sono elevatissime 7% stamattina per scambiare Bitcoin ragazzi non è una cosa che potrà essere scambiata con grande facilità anche per tanti motivi quindi riserva di valore le alt micro create per essere velocissime negli scambi e scambiare effettivamente poi il denaro il famoso contante famoso cash ok con Libra la domanda che nasce spontanea è semplice perché? ok questo è quello che penso e di conseguenza ragazzi il rischio sull'investimento sul trading e su questo tipo di criptovalute risulta ancora di più difficile da valutare nel complesso ora bisogna sempre seguire il trend quindi se siete con queste cripto che fanno queste funzioni di scambio seguite il trend sempre perché il trading è una cosa ragazzi questi sono cambi strutturali magari avranno influenza fra 2-3 anni quindi prendete le mie parole per quello che sono non mi venite a dire che vi ho detto di vendere Bitcoin Cash assolutamente no ok però prendetele in considerazione perché questo effettivamente è un primo punto in cui vedremo quella famosa scrematura delle altcoin che già sta avvenendo ragazzi già sta avvenendo ma l'aspettavamo da tempo la scrematura delle altcoin ve lo siete dimenticati? forse a volte andiamo troppo veloci noi che facciamo questa attività di formazione e informazione tecnologica parliamo di tante cose prima e poi quando il mondo viene dietro ci dimentichiamo che l'avevamo detto un anno fa che le altcoin andavano scremate e la dominance di Bitcoin vi dice palesemente questo ragazzi stanno scremando le altcoin giusto così perché il mercato era troppo sporco quindi era importante anche fare questo bene vi ho detto quello che penso sulle altcoin per quanto riguarda l'intervento di Facebook quelle relative allo scambio di moneta sono un po' più diciamo difficili da gestire in questa fase almeno da un punto di vista ottico per i prossimi anni bisogna stare molto attenti Bitcoin non viene toccato le altcoin di scambio di valore veloce che fungevano da moneta vediamo vedremo cosa risponderà la Cira vedremo cosa risponderà la Russia ma poi ve lo dico sottovoce Amazon perché sta zitta? secondo voi li lascia fare? vedremo ciao a tutti buon weekend andate a armare ciao